E allora buongiorno, buongiorno stronzi, oggi parro mercato del Frosinone. Ho deciso di fare il parro mercato del Frosinone per staccare un pochino da quelle che ho fatto finora, ovvero insomma big del calcio italiano. Oggi facciamo il Frosinone, Frosinone che è un'altra squadra campione d'Italia, non si può dire niente, è un'altra squadra campione d'Italia, il Frosinone, che appunto ha vinto il campionato di Serie B scorso e che ho deciso di ricostruire, di ricostruire praticamente da zero per puntare a una salvezza in Serie A. La prima domanda che sorge spontanea è per chi ho costruito il Frosinone, visto che Grosso, nel nato del Frosinone della scorsa stagione, ha lasciato la panchina del Frosinone appunto per accasarsi alla Sampdoria. Bene, ho deciso di chiamare come allenatore Roberto Occhiuzzi. Occhiuzzi, che è stato l'allenatore del Cosenza per diverse stagioni, ha portato alla salvezza il Cosenza quando aveva una squadra di Serie C, ha salvato il Cosenza più anni in Serie B. Un allenatore giovane, un allenatore che usa il mio modulo preferito, il 3-4-2-1. Un allenatore che esprime anche un bel gioco, un gioco moderno, che a me personalmente piace. E visto che sono curioso di vedere il buon Bob Occhiuzzi al lavoro nel massimo campionato italiano, ho deciso di dargli fiducia al Frosinone e gli ho costruito intorno una squadra che può tranquillamente arrivare undicesima in campionato. E non sto scherzando. Ma andiamo con ordine. Frosinone. Chi ha in porta il Frosinone? Il Frosinone in porta ha Turati, che io terrei, però probabilmente il Sassuolo vorrà puntarci, e quindi lo rimando al Sassuolo. Loria, rinnovo il prestito col Pisa per tenerlo un altro anno, e Marcianò lo tengo come terzo. Difensori centrali. Ravanelli scade il prestito e torna a Cosenza. Ziminski lo tengo. Lucioni rinnovo il prestito con Lecce. Monterisi scade il prestito e torna a Lecce. Calai lo tengo. Esterni e sinistri. Come esterni e sinistri, Frabotta scadrà il prestito, Cotali lo scedo per un milione e sette circa, un milione e mezzo circa, e promuovo dalla primavera Stefanelli e Tengo. Esterni e destri. Sampirisi scade il prestito e torna a Monza, Oiono lo tengo come riserva. Centrocampisti. Centrocampo il Frosinone a Mazzitelli, che scadrà il prestito. Boloca, uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie B, lo tengo. Voglio vederlo in maglia Ciociara, nella massima divisione italiana. Rodiene lo tengo. Conè scade il prestito e torna al Torino. Lulic lo vendo per circa mezzo milione e 0,7 milioni. Cuiabì lo tengo. Ricci, che rientra dal prestito, lo vendo per circa 3 milioni di euro. Trequartisti. Sulla trequarti il Frosinone a Garritano, che vendo per circa un milione e mezzo, due. Celli, che vendo per mezzo milione. Caso, che ha fatto molto molto bene in Serie B, ma con questo modulo qua probabilmente non troverebbe spazio, quindi lo vendo per 3 milioni e mezzo. Occhio comunque sia a Caso che è veramente un bel giovane. Bytes lo tengo. Buda Wee lo scedo per mezzo milione, circa. Insigne, Roberto, Insigne, il fratello. Lo scedo per circa due milioni. Canotto, che rientra dal prestito, lo scedo per mezzo milione. E Olivieri gli scade il prestito e tornerà all'Atalanta. Come punte, infine, abbiamo Mulattieri, che quest'anno in Serie B ha fatto davvero molto bene, ma scadrà il prestito e tornerà all'Inter. E io lo lascio tornare all'Inter perché ho in mente altre cose. Moro scade il prestito e torna al Sassuolo. Borrelli e Bocic scadono entrambi il prestito e torneranno entrambi al Pescara. Quindi, dalle cessioni entrano un budget di circa 14 milioni di euro. E da comprare c'è praticamente tutta la squadra. Perché non è stato confermato quasi nessuno. Avremo una rosa di sì e no a sei giocatori. Dobbiamo comprare. Cosa ci serve? Ci serve ovviamente un portiere titolare, un braccetto destro, un braccetto sinistro e un braccetto mancino, possibilmente, che accetti di fare panchina. Un esterno sinistro titolare, un esterno destro titolare. Un bel centrocampista importante che affianchi Voloca. Ovviamente un centrocampista di riserva, possibilmente giovane, da magari far inserire in un contesto importante come quello della Serie A. Un trequartista qualitativo. Un trequartista forte, che giochi di titolare. Una mezza punta, che possa fare anche all'occorrenza la prima punta. e una punta vera e propria. Chi vado a prendere con questo budget di 14 milioni, che non amplierò, mi basteranno? Ve lo dico subito. Come portiere titolare ho pensato di prendere in prestito secco dalla Lazio Maximiano. Prendo in prestito secco Maximiano perché con Sarri è partito titolare, ma dopo sei minuti si è fatto espellere quello in Bologna la prima giornata, e da lì in poi c'è stato un predominio da parte di Provedel per la porta bianco-celeste. Quindi ho deciso di dare questa opportunità a Maximiano, anche perché la Lazio l'ha pagato molto, e difficilmente se ne sbarasserà così per pochi soldi. Quindi il prestito al Frosinone potrebbe in qualche modo giovare a entrambe le fazioni laziali. Per la Lazio, per quanto riguarda il minutaggio da parte del portiere portoghese, per Maximiano invece perché per il Frosinone, perché oggettivamente si porta a caso un bel portiere. Andiamo avanti. Come braccio destro ho pensato di prendere dal Valencia Comer. Comer. Centrale-Svizzero-Nazionale-Svizzera in prestito con un obbligo di riscatto a 3 milioni in caso di salvezza. Comer, secondo me, può essere un bel centrale, un bel braccetto, che al Frosinone può fare molto comodo. Al Valencia non trova molto spazio, probabilmente anche a causa del fatto che il Valencia non gioca con la difesa a 3 dove lui non si trova bene, appunto nella difesa a 4 lui non si trova bene, e quindi il Frosinone potrebbe in qualche modo dargli mano in questo modo. Come braccetto di sinistra vado in Argentina, vado dal Belgrano e mi compro Meriano. Un giovanissimo, cioè giovanissimo no, comunque giovane, braccetto mancino di sinistra argentino, lo vado a pagare circa un milione, un milione e mezzo, facciamo un milione e due, e mi porto a caso un bel difensore. Come braccetto mancino di riserva, ho pensato di andare dalla Roma e di approfittare del fatto che la Roma non vuole rinnovare il suo contratto per prenderlo a zero. Sto parlando di Biandà, Biandà è un centrale francese che non ha mai trovato spazio appunto a Roma, sempre in giro, in prestito, in leghe minori francesi, in Belgio, e questi campionati qua. Il Frosinone può prenderlo, può prenderlo a zero, può terraformarlo come vuole. Ovviamente partirebbe come riserva, ma essendo giovane non vi vieta a nessuno di inserirsi e giocare titolare. Come esterno sinistro titolare vado dalla Cremonese e prendo Quagliata. Prendo Quagliata perché, per due motivi. Il primo è che Quagliata ha iniziato la sua carriera professionale giocando nel Latina, quindi società laziana, in Latina dove è esploso, dove poi ha cominciato a giocare con regolarità in Serie B, poi è andato in Olanda, fino ad arrivare appunto alla Cremonese quest'estate. La Cremonese potrebbe tranquillamente cederlo, in quanto è retrocessa. Ho pensato di prenderlo per circa due milioni e mezzo, e Quagliata, in questo schema del Frosinone, lo vedo molto bene, anche perché non gli si chiede molto in fase di offensiva, ma per lo più in fase difensiva. Quindi Quagliata. Come esterno destro titolare invece vado a prendere dal Wolfsberger, Jasic. Jasic è un bel giovane, un bel prospetto austriaco, al Wolfsberger è sempre titolare, lo andresti a pagare circa due milioni, un milione e mezzo, due milioni, perché comunque si è giovane. E comunque il Wolfsberger non è che sia una realtà solida, perlomeno del calcio austriaco. Lo andresti a pagare appunto tra il milione e mezzo e due milioni, e Jasic, secondo me, in questo Frosinone, può fare veramente la differenza e può esplodere definitivamente. Passiamo ora al centrocampo. Come centrocampista importante, ho pensato proprio a veramente un bel centrocampista. Vado dallo Young Boys e mi prendo Imery. Imery è un nome che circolava l'anno scorso anche per quanto riguarda la Fiorentina, ma io al Frosinone lo vedo bene a giocare insieme a Boloca, gli vedo proprio due centrocampisti che si possono comparare a vicenda. Lo pagheresti tanto, ho pensato a una cifra intorno ai 6 milioni di euro, tanto per quanto riguarda il Frosinone, ma è un acquisto sicuro, è giovane e può veramente, veramente far bene in questa squadra, ne sono sicuro. Quindi vado dallo Young Boys e mi prendo Imery, che comunque ha doti sia di trequartismo, volendo infatti può giocarti anche trequartista, ma soprattutto ha anche doti di regia. Quindi è veramente un centrocampista totale, che io vedrei molto, molto bene in questa squadra. come centrocampista giovane e di riserva, l'ho pensato più che altro a una riserva per Boloca, vado dal Liverpool, ma dal Liverpool Under 21, la primavera, e vado a prendere Matteo Ritaccio. Mi prendo Matteo Ritaccio, centrocampista giovane e statunitense, lo prendo in prestito con diritto di riscatto, perché, secondo me, è appunto un centrocampista che può dire tanto, l'anno scorso ha giocato in MLS, non ha giocato male, ovviamente MLS in prestito appunto dal Liverpool Under 21, potrebbe essere Frosinone la piazza che può fargli fare il salto di qualità e fargli cominciare la sua carriera professionistica in tutto e per tutto. Quindi Matteo Ritaccio. Come trequartista qualitativo vado sempre in casa Roma, sempre un giocatore che la Roma non vuole rinnovare, un giocatore che prenderei a zero, e sto parlando di Ante e Cioric. Cioric era, comunque sia, è ancora un classe 97, un giocatore di cui, quando arrivò a Roma qualche anno fa, se ne parlava un gran bene, si pensava dovesse essere appunto il futuro della Roma, così non è stato, si è perso tra prestiti e probabilmente aspettative troppo alte nei suoi confronti. E, secondo me, il Frosinone, questo Frosinone, potrebbe dargli minutaggio e potrebbe dargli un pochino di di riconferme, di certezze per quanto riguarda la sua carriera. E comunque lo prenderesti a zero, quindi nel caso sarebbe una plusvalenza sicura, anche lo andresti a rivendere per circa mezzo milione. Come trequartista, invece, titolare, ho pensato di andare dal Charleroi, in Belgio, e prendere Eimans. Eimans, una trequartista belga, giovane, classe 99, ex Venezia, al Venezia non ha trovato molto spazio in Serie A, ma secondo me Eimans con Occhiuzzi e con questo modo di giocare potrebbe trovare spazio, potrebbe fare davvero bene. Quest'anno ha fatto molto bene a Charleroi, per essere un trequartista, e comunque Charleroi non è che abbia giocato molto bene, ha fatto i suoi gol, ha fatto tipo sette gol in campionato, se non ricordo male, sei, sette gol, lo prenderesti in prestito con un obbligo di riscatto a tre milioni e mezzo in caso di salvezza. Stessa formula che ho usato per Comer. Come mezza punta ho deciso di andare a prendere un giocatore giovane in prestito secco dal Sassuolo. Il Sassuolo ci ha dato Turati quest'anno, ha fatto Turati e ha fatto bene. Manteniamo i buoni contatti col Sassuolo, ridiamo gli Turati, però loro ci danno in prestito secco Agustin Alvarez. Agustin Alvarez perché secondo me come punta non rende bene, ha qualità che secondo me si esprimerebbero meglio come mezza punta e quindi lo prendiamo e gli cambiamo anche ruolo e lo facciamo appunto giocare dietro la punta che secondo me è quello il suo ruolo principale e ce lo vedrei molto bene. Ovviamente a piedi invertito, farebbe la mezza punta di sinistra. Ricordo che Alvarez è destro. Chiudiamo con la punta, prendo un bel giovane, un bel giovane che ho visto giocare poco quest'anno. Vi spoilerò che di quel poco che ha giocato, ha giocato contro la Fiorentina e tra poco ci fa anche gol, tra l'altro. Vado dall'Udinese e mi prendo Vivaldo Semedo. Giovane attaccante classe 2005, portoghese, nazionale giovanile portoghese, ho fatto tutta la trafila delle giovanili nello sport in Lisbona. Quest'anno all'Udinese lo prenderesti in prestito con diritto di riscatto. A me personalmente Semedo piace molto perché ti dà sia fisico che tecnica, è altissimo, è alto più di un metro e novanta ed è quella punta fisica che secondo me serve per un modulo di questo tipo. Quindi mi prendo Vivaldo Semedo che sono sicuro che con questa squadra farebbe molto bene. Detto ciò, da questi acquisti ne viene che abbiamo speso 11 milioni e mezzo quindi rientriamo perfettamente nel budget preimpostato più eventualmente tutti i riscatti per quanto riguarda Comerd, per quanto riguarda Eimans in caso di salvezza che ammonterebbero circa 6 milioni e mezzo quindi ovviamente si andrebbe a sommare ma sono tutti valori che andresti a considerare per la stagione successiva. più volendo i riscatti di per quanto riguarda Di Semedo basta il riscatto di Semedo perché gli altri sono prestiti secchi e niente vi leggo la formazione la formazione finale che è venuta fuori Bobo Chiuzzi allenatore 3-4-2-1 in porta Maximiano braccetto di destra Comer braccetto di sinistra Meriano centrale Lucioni che ha fatto bene quest'anno voglio vederlo anche in Serie A visto che non gli si dà molto spesso possibilità di giocare in questi palcoscenici ma lui è veramente nonostante l'età un gran bel difensore e quindi secondo me si merita almeno un anno in Serie A Jasic sulla destra Quagliata sulla sinistra a centro campo Boloca Imery trequartista di destra Eymans di sinistra Alvarez punta Vivaldo Semedo questo è il mio frosinone un frosinone giovane un frosinone che se comincia a ruotare bene può tranquillamente arrivare undicesimo in campionato undicesimo dodicesimo ci metto la firma adesso con questo frosinone la salvezza è certa questo è quanto questo è il parromercato del frosinone 2023-2024 ci vediamo domani col prossimo parromercato ciao stronzi